La panchina rossa anche a Messina fuori dal tribunale è un forte segnale, un forte messaggio. Sì, vero. Anna Tarantino, presidente FIDAPA. La FIDAPA ha sposato questa iniziativa grazie all'associazione Al tuo fianco di Rocca Lumera. Insieme a altre sezioni FIDAPA della provincia, Taormina, Giardini, oggi anche a Messina abbiamo la nostra panchina rossa. Questo evento che è cresciuto nel piano piano e siamo riusciti a coinvolgere le istituzioni, ma le istituzioni dentro questo palazzo. Per questo l'abbiamo voluto qua, di fronte al tribunale e all'università.